Pulci, zecche, freblotomi, mosche cavalline, pidocchi, ma anche vespe, processionaria, forasacchi, erba alta, stagione degli amori e la primavera. Ma questa primavera cosa fa? Oltre a portarti l'inizio di questi parassiti che possono attaccare ed essere pericolosi per il tuo amico a quattro zampe, inizia ad essere la stagione degli amori. Sono libera e per te che vedi la prima volta uno dei miei video, mi presento. Insieme a Vincenzo abbiamo un negozio a Montediprocide in via Roma 25, prima della caserma di Carabinieri, dove aiutiamo i proprietari di cani e gatti attraverso i nostri consigli affinché il loro amico a quattro zampe possa vivere nel modo migliore possibile. Oltre ad occuparmi di acquariologia nel modo naturale, quindi acqua dolce nel modo più naturale possibile. Iniziamo a parlare dei parassiti esterni che possono attaccare il nostro amico a quattro zampe. E a questo punto ti invito a vedere uno dei miei ultimi video dove parlo proprio di come si sviluppano tutti i parassiti. Qui ti faccio un breve accenno. Ho fatto un piccolo disegnino elementare per spiegarti che dopo un periodo di tregua fanno capoligno pulci e zecche che per nutrire le loro uova hanno bisogno del nostro amico a quattro zampe. Quindi noi proprietari cosa possiamo fare? Possiamo usare degli antiparassitari. Ecco io ho segnato una fiala che sarebbe un antiparassitario che con le loro gocce iniziano ad eliminare i pulci e zecche. Cosa succede se usiamo questo antiparassitario? Che evitiamo quindi che micio e fido diventano il banchetto prediletto di questi parassiti. E quindi usare gli antiparassitari in questo periodo è molto molto conveniente oltre che è una soluzione, l'unica soluzione che aiuta a proteggere i nostri amici a quattro zampe. Considera che la lotta ai parassiti esterni evita anche malattie che poi possono essere pericolose per un nostro amico a quattro zampe. Ma abbiamo detto all'inizio che rospi, processionaria, vespe e api possono essere letali o pericolose per il nostro amico a quattro zampe. Come anche i nuovi fiori, questi colori, questo mughetto che abbiamo in giardino, l'oleandro, sono piante tossiche per l'amico a quattro zampe. Immagina che il tuo cane sta per fatti suoi nel giardino. All'improvviso vede gironzolare un'ape. La sua curiosità fa sì che il cane, essendo un animale curioso, deve iniziare a seguirlo o a prenderla, a acchiapparla. Cosa succede? Che l'ape detesta questo coraggio del nostro amico a quattro zampe e fa sì che lo può pungere. La puntura di api e vespe non è letale, ma può provocare gonfiore e fastidio al nostro amico a quattro zampe. Quindi se stiamo in giardino oppure stiamo portando a passeggio il nostro cane a spasso e notiamo qualche ape o vespa, cerchiamo di stare alla larga. Ma quello che è pericoloso è il bruco della processionaria. Lo si incontra spesso nelle pinete o dove l'erba è molto alta. In pratica questo bruco ha dei peluzzi urticanti. Quindi ho disegnato questo bruco con questi peletti. E questi peluzzi sono molto velonosi perché possono provocare al nostro amico a quattro zampe uno shock anafilattico. E noi sappiamo che lo shock anafilattico è qualcosa che può portare anche alla morte se non si interviene subito. Quindi se abbiamo la paura che il nostro amico a quattro zampe sia stato preso, attaccato da questo bruco, la prima cosa che bisogna fare è chiedere subito aiuto al nostro veterinario di fiducia. Poi ci sono i rospi che iniziano a saltellare, anche se qui a Montediprocida non è zona. Però in Campania comunque ci sono zone che magari c'è il laghetto e iniziano a saltellare, tipo sul lago Lucrino. No, lì possiamo trovare benissimamente queste rane e questi rospi. E il nostro amico a quattro zampe sta per fatti su e sta facendo pipì all'improvviso da solo vicino a un tronco di un albero e inizia a vedere questo animaletto che inizia a saltellare. Cosa succede? Che comunque è sempre a tratto. E cosa succede? Che il rospo, la rana, tende a difendersi. In che modo? Sputa veleno. Se il nostro amico ha messo la faccia vicino a quest'animale, è bene subito portare l'acqua sempre dietro, quindi sciacquarla abbondantemente, muso e occhi con quest'acqua. Ma abbiamo accennato e parlato anche di furasacchi. Cosa sono questi furasacchi? In pratica sono delle spighette di erba che si trovano in prati non falciati oppure dove i falci non sono stati raccolti. Quindi l'erba che è stata tagliata è stata accontonata lì. E magari il nostro cane, se stiamo in un prato e gli stiamo lanciando la palla, la palla va a colpire questa erba tagliata e non raccolta e si può nascondere questo pericolo di queste spighette. Cosa succede? Come sono fatte? Queste spighette si possono inserire, quindi piantare, in diversi parti del corpo del nostro cane e quindi possono provocare, oltre a fastidio, magari lacrimazione, irridazione, a volte anche a dolore che viene provocato da una infezione. Perché a lungo andare, se non ce ne accorgiamo, questa spighetta può portare al livello della pelle del nostro animale una piccola infezione. Ma come si mette all'interno del corpo del nostro cane? Allora, se il nostro cane sta affiutando a terra, questa spighetta inizia all'entrale, all'interno della narice e quindi inizia a salire sopra. Se noti magari che il cane si sta strofinando con la zampa vicino al naso o inizia a stannutire, o vedi che inizia a lacrimare, oppure che può zoppicare, può essere sintomo che una spighetta l'abbia attaccato. La prima cosa da fare è non toglierla mai se magari si presenta al livello delle zampe, quindi dei piedi, non estraporarla mai tu che sei il proprietario, ma portarlo subito da un veterinario perché è l'unico che con i suoi attrezzi riesce ad aiutare il nostro amico a quattro zampe. Questo perché ti dico? Perché può darsi che pure se tu riesci a togliere la parte esterna che vedi rimane sempre incastrata la parte interna di questa spighetta. Perché questa spighetta è così pericolosa? Perché, come puoi notare dal disegnino, ha questa struttura che si attacca a qualsiasi cosa che la può sfiorare. Quindi se il nostro cane si sta rotolando a terra la può prendere all'interno dell'orecchio e quindi l'orecchio che l'ha sfiorata entra dentro, il naso come prima si sta affiutando qualcosa, la zampa sta camminando e non ce ne rendiamo conto e si nasconde tra le dita delle zampe oppure sotto all'ascella, ma alcune volte anche se il cane sta facendo i suoi bisognini sull'erba alta si può infilare nella zona perianale. Quindi attenzione al forasacco. Ma un'altra insidia cosa può essere? Può essere il colpo di calore. Il colpo di calore è quello che succede soprattutto di estate, però con le temperature che iniziano a salire il nostro cane può iniziare ad ansimare. Ho fatto un piccolo termometro per farti capire che la temperatura normale di un cane è di 38-39 gradi. Se l'avessimo noi questa temperatura o è quello che è chiappato covid? Una breve battuta. Poi il colpo di calore imminente per quanto riguarda il nostro amico a quattro zampe è sui 40 gradi. Se sfiora questi 40 gradi, quindi questa temperatura uscillerà tra i 41-43, ha il colpo di calore. Notiamo noi se il nostro cane ha il colpo di calore. Inizia a stare male, inizia a non avere le forze, inizia ad ansimare, ma soprattutto inizia a salivare in modo eccessivo. Quindi Libera cosa consigli? Consiglio che con l'alta temperatura di questa primavera, se stiamo portando il nostro cane con noi in macchina e scendiamo un attimo a fare la spesa, non chiudiamo i finestrini perché l'abitacolo si surriscalda facilmente e quindi il nostro cane potrà soffrire di questo colpo di calore. Oppure dopo pranzo la temperatura è più alta, è più bello passeggiare, ci portiamo dietro il nostro amico a quattro zampe, ma ciò fa sì che non è la temperatura ideale ed è il momento giusto per portarlo a spasso. Quindi questi sono dei veri consigli che ti do. Ma per quanto riguarda il gatto, allora per quanto riguarda sia cane che gatto, diciamo che la primavera è pure il periodo della muta del pelo, quindi iniziamo a vedere che fido ogni volta che passa vicino a noi che ci siamo appena lavati, vestiti per andare in ufficio, ci passa con questa coda che ci scodinzola vicino al nostro pantalone nuovo o appena pulito e ci inizia a riempire di peli e quindi il nervosismo a noi sale oppure il nostro gatto sale sul divano e inizia a lasciare peli ovunque, peli sparsi ovunque in casa. E quindi qui ti invito a vedere il video che abbiamo fatto qualche tempo fa in cui proponiamo una spazzola, tra virgolette, magica che chi l'ha usata veramente si è trovato bene ed in pratica non devi stare lì tutti i giorni a pettinare il tuo animale ma basta solamente una volta a settimana. Parlando della muta del pelo che può risultare problematica parliamo per quanto riguarda il nostro micio può essere un vero problema perché può essere causa di costipazione cosa significa? Che ha problemi a defecare. Come succede? Sappiamo che il gatto è un animale pulito quindi tende a leccarsi sempre man mano che si lecca, quindi si pulisce da solo tutti questi peli vengono ingeriti e arrivano allo stomaco. Cosa succede? All'interno dello stomaco si forma un certo bolo di pelo quindi tutti questi peli che si attaccano tra di loro iniziano a grovigliarsi. Ora cosa si fa per liberare lo stomaco del nostro animale da questi peli? o si usa un'erba gatta che puoi trovare direttamente qui al negozio e la coltivi tu in casa anche se non hai il giardino basta che la metti tranquillamente su un davanzale e inizi a crescere a germogliare in pochi giorni oppure si usano creme adatte per aiutare il nostro gatto ad eliminare questi boli di pelo o anche addirittura il cibo che viene chiamato cibo herbal e quindi aiutiamo il nostro gatto soprattutto in questo periodo della muta a liberarsi di questo fastidio. Cosa succede con la primavera? Anche per noi, no? Ci piace, ci sentiamo più leggeri più contenti, più felici perché diciamo che l'alta temperatura rispetto alle temperature più rigide ci danno una sensazione proprio di benessere in più e così succede per gli amici a quattro zampe che inizia la vera stagione degli amori qui ho fatto del semplice disegnino con due cagnolini che si guardano innamorati e qui gattini che si tengono la coda e quindi formano un cuoricino una cosa molto carina per spiegarti la stagione degli amori che è molto sentito da gani e gatti durante questo periodo puoi notare che il tuo animale si possa comportare in modo strano e a volte anche in modo molto imbarazzante i gatti cercano di marcare il territorio con degli spruzzi quindi i gatti maschi iniziano a spruzzare e senti cattivi odori anche se ne hai un gatto castrato magari in casa può arrivare qualche gatto esterno e quindi inizia a spruzzare e senti i cattivi odori questo perché lo fa? per marcare il territorio e per dire alla femmina guarda che io ci sono sono pronto per accoppiarmi però poi ci sono gatti più litigiosi che fanno proprio le serinate notturne iniziano a fare mao 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 durante la notte questi sono i maschi che iniziano ad azzuffarsi tra di loro per vedere chi riesce più vittorioso per prendersi e per conquistare la gatta per le caglie invece inizia magari la fase del ciclo il proestro che significa che è la fase che attiri il maschio attraverso le sue perdite però attenzione qui la cagna non ha l'istinto produttivo quindi non cerca di accoppiarsi appena è finito questa fase di proestro la cagna tenderà lei a cercare il maschietto per evitare la casa piena dei cuccioli quindi libera tu cosa ci consigli solamente la sterilizzazione o la castrazione è la soluzione ideale per non avere magari micetti ovunque in giro che poi non sappiamo a chi regalargli e cagnetti che poi non sappiamo come gestirli quindi oggi ho parlato in breve delle difficoltà che possiamo trovare durante questo periodo primo averile se ti è piaciuto questo video mettimi un like e ci vediamo al prossimo